Con una? Non devi portare le tue mani però, eh? Ok. E io devo qua con questa, eh? No, eh, ma vedete. Potete fare il mezzo, anche così? Uno, due... No, ma cos'è la dà? Ma con una mano? Ah, io con una mano. Ah, ok. Dai, inizia. Che vuoi? E stamattina mi sono alzata. E mi fai fare con le mani? Stamattina mi sono alzata, ho bevuto un caffè, e poi ho pregiunto le gomme spiere di gaspe, questa è la nulata alla nuova, ho due rossine, sono tornata a caffina, ho fatto i miei schiedi, ho fatto, e poi cazzo ho fatto il gatto... No, è un peccato, nonzusto andare in gioco. Quel gioco del schien, si fu venir con i giornini, no, non mi ha mangiato proprio il trossino. Quei sono andati a caffina, e... no, per farci me la misura no, no che me abbia visto che me abbia visto perché mi io mi sento in giù no, no, no no, no